Questa mattina sono stati i volontari della Onlus Gulliver ad armarsi di scopa, paletta e rastrello e ripulire il Parco Maestri del Lavoro delle Cinque Torri. Presto a curare quello stesso verde pubblico saranno anche alcune persone individuate nel cosiddetto programma di giustizia riparativa, ovvero coloro che devono scontare un reato penale minore e che per l'occasione saranno impiegati in lavori socialmente utili come la cura del verde. Si parte dalle Cinque Torri per poi allargare l'azione anche negli altri quartieri per un volontariato da 120 ore settimanali. Un progetto di riabilitazione e inclusione sociale che unisce gli sforzi della Gulliver al coordinamento di comune e marche multiservizi per l'occasione rappresentata dal direttore ambiente Franco Macor che rifornirà i volontari di guanti, attrezzi, scarpe e sacchi della spazzatura. Il progetto nasce dall'accordo con Gulliver e l'UEP e l'Ufficio Esecuzione dei Penali Esterni di Ancona. Ogni anno Gulliver riceve 100 persone che hanno commesso dei piccoli reati, parliamo di guida di stato di ebrezza o piccole cose. La maggior parte sono i cittadini pesaresi che devono scontare chi alcune settimane e chi alcuni mesi. Con queste persone, quindi non con volontari, saremo nei parchi cittadini ogni mattina per quattro ore e assicureremo 120 ore di lavoro settimanale per la pulizia dei parchi. Quindi un ringraziamento all'UEP di Ancona, al Ministero della Giustizia che crede in Gulliver, Marche Multiservizi del Comune che appoggiano questo progetto per la città di Pesaro innovativo e mai sperimentato. Coordinerò un gruppo di ragazzi, di persone che con il buon cuore e con la voglia di fare cureremo le aree verdi della nostra bella città di Pesaro. Questo è l'impegno che noi ci mettiamo e che vorremmo portare veramente a fine in fondo perché avere parchi pubblici ma anche i parchi scolastici è importante tenuti puliti in ordine, al di là poi della pulizia del verde che viene fatta normalmente. Noi ci mettiamo tutto il nostro buon cuore. Il nostro obiettivo assieme a Marche Multiservizi è quello di avere la città sempre più pulita. Siamo partiti già anche con i percettori del reddito di cittadinanza e quando ci è stata proposta questa iniziativa noi l'abbiamo accolta a braccia aperte sia l'amministrazione comunale che Marche Multiservizi. Siamo sicuri che questo sarà non solo un lavoro che renderà i parchi un pochino più puliti ma anche un segnale perché vedere gente che pulisce poi dovrebbe far riflettere quelli che sporcono. Io dico sempre l'erba magari cresce perché per un periodo piove tanto e quindi bisogna tagliarla più spesso, invece la mondezza per terra quella non cresce.